Ciao ragazzi Allora, come sempre questa cosa qua la faccio perché è doveroso sia per chi ci segue sia perché comunque noi vogliamo continuare a dire la verità con tutta la nostra buona coscienza, continuiamo in perterriti perché comunque da parte nostra sai cosa? È un po', cioè guarda lo dico con affetto, lo dico con affetto, sta diventando inaccettabile che qualche professionista su YouTube incominci a dare delle informazioni un po' come dire tendenziose, cioè il problema è che poi le dà senza verificare usando dei termini oltre che poco professionali direi alquanto offensivi, ripetuti ed offensivi. Fondamentalmente noi stiamo facendo questa ricostruzione togliendo tempo alle nostre famiglie, ai nostri cari, ai nostri hobby, lo stiamo facendo anche in ferie, soprattutto loro, i ragazzi. La stiamo facendo questa ricostruzione per il bene dell'Inter, per dire la verità, solo per passione noi lo stiamo facendo. A quanto pare, a quanto pare, parrebbe che qualcuno sia lì a difendere non sa che cosa, in maniera non maleducata, ma offensiva e di basso livello, e poi totalmente in maniera sconclusionata, perché ormai cercano di smentirci in una maniera sconclusionata, anche poi dicendo prima una cosa e poi un'altra. Quindi si stanno anche contraddicendo, ecco, e vi spiego perché si stanno contraddicendo, perché prima l'Inter gli dice che la Gas Trust è un security agent, ci sono i video, andate a rivederveli. Quindi prima l'Inter gli dicono, a loro dice, no, guarda, questa Gas Trust è solamente un security agent. Poi provano a far parlare il giornalista di tutto rispetto, veramente il più bravo che abbiamo riscontrato in questi giorni, che però di cui l'intervista a noi non torna assolutissimamente niente, anche perché poi ci dovrebbero spiegare come fa la Gas Trust a garantire le passività di un asset di più di un miliardo. Quindi c'è qualcosa che non torna. Non solo, non parla nel doppio pegno con questo giornalista e fino a quando viene menzionato, praticamente viene menzionato, ha provato a salire ancora più su con mi hanno detto, mi dicono, hanno fatto, anche io posso dire che ho un miliardo di euro in banca, poi dopo non ce l'ho, servono le prove, noi le prove le abbiamo, e praticamente qual è il discorso? Che addirittura un notaio, Carlo Marchetti, notaio, che è nel CDA dell'Inter, a quanto pare lui non conoscerebbe CDA, ma come? Mi scusi, notaio, con tutto rispetto, i suoi colleghi dell'Inter hanno detto la Gas Trust, da security agent, a quanto pare dicono che lei abbia detto che, essendo nel CDA dell'Inter, cioè lei vorrebbero far credere il signor Marchetti, il dottor Marchetti, che la Gas Trust, che ha impegno al 99,6% delle vuote dell'Inter, con un impegno che arriva fino a Hong Kong, quindi a Zhang Jingdong, vorrebbero far credere il signor Marchetti che lei non ne sappia nulla, quando i suoi colleghi hanno provato a descriverla come security agent, cioè oltre le smettite ci sono troppe cose che non tornano molto probabilmente in notaio, non lo so, io sto facendo esposizioni, non avrà voluto rivelare delle cose molto, molto importanti e riservate, anche perché questo accanimento che c'è contro di noi su questo argomento, ormai penso sia davanti agli occhi di tutti, e qui si vuole sotterrare la verità e non si vuole che venga fuori una cosa che ormai è davanti agli occhi di tutti, perché per capire chi è la Gas Trust basta una visura camerale, non ci sono, mi hanno detto, mi dicono, non vale più nulla, mi hanno detto, mi dicono, bisogna portare i fatti concreti, le cose concrete, e se dietro a Glass Trust non c'è nessuno, perché è vero dei documenti non si può vedere chi c'è dietro a Glass Trust, però spiegateci come fa a garantire una società come Glass Trust per tutte le passività dell'Inter, come fa da solo a garantirle le passività? ecco perché quindi ci sono tantissime incongruenze, anche in un ultimo, nella intervista è stata fatta con il giornalista finanziario, in base a quello mi sento di dire un paio di cosette, cioè se la ricostruzione che hanno fatto loro in quella famosissima intervista, allora, l'Inter potrebbe rischiare veramente, potrebbe rischiare il default, perché se te segui la linea dell'intervista, l'Inter sembrerebbe da più a giugno rischierebbe il default, allora non rinnovi a Skriniar, ma non solo, vendi mezza squadra in quelle condizioni in cui sembra essere l'Inter in base a quello che devono loro, come mai? e poi ci sarebbe anche da chiederci, io buono, ma con tutto questo debito, che tra un po' supera il valore della società, ci siamo iscritti al campionato, ma ci sarebbe da dirgli, ma quanta fatica abbiamo fatto per iscriverci al campionato, con una situazione così di valore della società e della fase debitoria? Quindi ragazzi, mi dispiace, ormai sono arrivati a smentirsi, tra di loro la Glass Trust esiste, che un membro del CDA dell'Inter non sappia che la Glass Trust ha impegno il 99,6% delle vuote della società nera azzurra, a me pare strano, poi io lascio valutare a voi, quindi mi sento di dire con tutto il rispetto e con tutta la convinzione del caso che la verità è quella che stiamo raccontando noi, a quanto pare qualcuno la vuole sotterrare, ma non ci riuscirà mai, perché la nostra passione è più forte degli interessi, è più forte delle visual, è più forte delle donazioni, è più forte degli abbonamenti che si chiedono agli utenti, perché a noi queste cose non ci interessano, noi siamo trasparenti, siamo politi e non dobbiamo difendere nessuno, noi diciamo solamente per il rispetto dei tifosi dell'Inter la verità, quindi le smentite mi hanno detto, mi dicono, non valgono nulla, servono le prove. Ciao Inter!